ecco l'audio buonasera buonasera a tutti benvenuti al quinto appuntamento dei venerdì con la scienza siamo ormai al giro di boa del nostro ciclo di appuntamenti e questa sera e con i due incontri del prossimo mese di aprile riprendiamo il tema che purtroppo l'anno scorso abbiamo dovuto interrompere il tema delle grandi emergenze planetarie diretta conseguenza della crisi climatica con questi appuntamenti oltre ad assolvere a quello che chiamiamo compito istituzionale del circolo galilei diffusione della cultura scientifica nella nostra comunità vorremmo essere da stimolo ad agire concretamente su queste emergenze che per la loro dimensione globale e l'urgenza delle azioni che ci impongono richiedono l'impegno di tutti i cittadini i singoli cittadini le associazioni le amministrazioni dobbiamo garantire alle prossime generazioni un futuro più sostenibile perché questa crisi ormai è riconosciuta non parliamo più di cambiamenti ma parliamo di crisi scatena delle emergenze planetarie restiamo l'attualità dell'attuale pandemia non è del tutto estranea alla crisi climatica e sappiamo quali sono le cause comportamenti i nostri comportamenti comportamenti del cosiddetto sapiens e sembra che ci si che ci si muova su questi temi i famosi 209 miliardi del recovery plan devono avere una percentuale consistente in investimenti cosiddetti green la nuova amministrazione americana ha ripreso il tema che era stato non dico sospeso ma negato da quella precedenza nel nostro piccolo ambito le sollecitazioni di friday for future dei ragazzi di friday il lavoro della commissione speciale ambiente del nostro comune ha portato il consiglio comunale di mogliano in tempi recenti nel novembre dell'anno scorso a votare all'unanimità il riconoscimento dello stato di emergenza climatica ed ecologica è un importante presa di coscienza della nostra amministrazione e cui auspichiamo seguono impegni ad agire concretamente per la riduzione dell'impatto umano sull'ambiente e in particolare sul clima del nostro territorio emergenze planetarie quindi affrontiamo di questo il tema di questa sera con il professor francesco bonella che ringrazio di aver accolto accettato il nostro invito è un professore ordinario di fisica presso l'università caffoscari di venezia autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche e con esperienze di docenza e collaborazione con atenei cinesi e giapponesi in particolare il politecnico di tokio e tra le sue numerose attività è anche membro del gruppo alliance of war scientists è un'organizzazione che conta ormai più di 25 mila scienziati e si occupa di pubblicare e diffondere presso i governi i dati sulla situazione e questi drammatici scenari a cui stiamo andando incontro e prima di dargli la parola vi ricordo che sia sul canale youtube del circolo galilei sia sulla pagina facebook di officina 31 0 21 potete lasciare domande e commenti che poi gireremo dopo l'intervento al nostro grandissimo ospite professor gonella a lei la linea e buona serata e buon ascolto a tutti ok allora intanto grazie grazie marco e grazie al circolo galilei di di mogliano per per l'invito che mi è stato fatto eh molto tempo dietro proprio per essere sicuri di riuscire a trovare una una data che andasse che andasse bene a tutti e dicevo sono molto contento perché so che mogliano ha è molto attiva su su questo fronte quindi non solo sul fronte diciamo legato alle emergenze il cambiamento climatico ma anche in generale sul sulla divulgazione scientifica e eh oggi più che mai abbiamo bisogno di questo di questo tipo di 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 input eh nei riguardi del delle persone della gente che hanno non solo il il diritto ma il bisogno di conoscere qual è la reale situazione in molti campi per poter poi capire anche a che livello e in che modo eh essere dei 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 cittadini responsabili insomma delle delle persone che prendono delle decisioni che poi eh molte volte rischiano di ricadere o su altre persone o sulle generazioni successive allora condivido lo schermo ora voi dovreste osservare la pagina iniziale della mia presentazione eccola qua ci siamo dovreste vedere il mio viso in alto a destra e il titolo della mia presentazione emergenze planetari sostenibilità e strategie in effetti eh le emergenze planetarie quali sono in questo momento l'emergenza climatica l'emergenza ecologica ma in realtà tutti gli aspetti della vita di oggi sia a livello locale sia a livello globale che sia una questione economica che sia l'approvvigionamento di cibo che sia il clima appunto che siano le guerre i conflitti le migrazioni passano per un denominatore comune che è il cambiamento climatico che in questo momento è diventata eh è diventato la minaccia con la M maiuscola a tutti i livelli ora nella prima parte di questa di questa breve conferenza eh sarò costretto a darvi delle cattive notizie però eh come abbiamo discusso molte volte anche con con gli amici di Mogliano è necessario eh accettare che qualcuno sia morto prima di eh eh cioè è necessario elaborare il lutto prima di riprendersi e iniziare diciamo così a portare avanti la vita anche in questo caso è necessario che noi eh metabolizziamo un fatto il mondo come lo stiamo conoscendo noi oggi cioè come l'ha conosciuto la mia generazione ad esempio ma soprattutto la generazione successiva alla mia è destinato a morire per certi versi è già morto e verrà sostituito da un mondo che noi dobbiamo fare di tutto oggi per rendere eh abitabile e eh giusto salutare anche per le generazioni che verranno è un po' questo eh è la filosofia di quello che vado a presentarvi allora questo è il mondo questa è una fotografia molto famosa no sta scattata da una delle prime missioni Apollo che ci fanno vedere finalmente che il mondo è azzurro non ha confini non si vedono confini non si vedono neanche gli abitanti peraltro dunque la prima cosa che faccio è chiarire eh chiarire se mai ci fosse qualcuno di voi che avesse ancora dei dubbi ma è proprio vero questo riscaldamento globale sì è provocato dell'attività dell'uomo sì non ci sono margini di eh dubbio o margini di incertezza su questo chi lo dice l'intera comunità scientifica mondiale non commettete l'errore di pensare che eh gli svitati che ogni tanto vengono invitati al ai talk show televisivi e che eh vi dicono che è tutto un complotto che è tutta una balla rappresentino in qualche modo una una corrente di pensiero della scienza non è così non è così la scienza compatta attesta la verità del riscaldamento globale è sempre peggiore e il fatto che questo riscaldamento globale è provocato dalle attività dell'uomo questo è il consenso della comunità scientifica mondiale da qui rappresentato ad esempio dal frontespizio dell'ultimo delle decine di appelli che vengono pubblicati su riviste scientifiche ma che sono diretti soprattutto ai governi in cui più di undicimila scienziati firmano l'ultimo avvertimento in ordine di tempo questo è del 2020 il l'articolo comincia con questa frase gli scienziati hanno l'obbligo morale di avvertire chiaramente l'umanità di ogni minaccia catastrofica e di dire le cose come stanno sulla base di questo obbligo e dei dati che mostriamo dichiariamo con più di 12 mila firmatari bla bla chiaramente e inequivocabilmente che il pianeta terra di fronte è un'emergenza ma quando dico emergenza è quella che succede quando piglia fuoco la casa e si accende la sirena di emergenza oppure stavo affondando il vaporetto a venezia e c'è una sirena che va quella è l'emergenza quello il significato della parola emergenza comunque dicevo gli scienziati hanno l'obbligo morale di dire le cose come stanno ed è quello che io faccio questa sera quindi non vi propongo una presentazione che rappresenta quello che io penso o se lo fa lo fa in minima parte il mio interesse è mettervi di fronte a una realtà che molto spesso purtroppo la politica e il giornalismo ci tace per motivi che non ho qui il tempo la voglia di approfondire che sono comunque noti studiati comunque ripeto cercherò di parlarvi di fatti altra parte essendo uno scienziato sono infatti quelli su cui io costruisco poi diciamo così il prodotto del mio lavoro il mio lavoro di ricerca allora come mai gli scienziati si sono messi in mezzo a questo difficile lavoro di avvertire la gente beh sapete gli scienziati di solito sono sempre tenuti fuori da queste da queste cose non gliene mai fregato molto diciamo che forse possiamo dire che l'unico esempio in passato di coinvolgimento della scienza a livello socio politico è stato con con le armi nucleari per cui con la guerra fredda vi ricordate c'è stata la famosa lettera di bertrand russell e albert einstein ai governanti in cui si faceva presente il rischio oggettivo di una guerra termonucleare distruttiva dopo tipicamente gli scienziati affidano i risultati delle proprie ricerche a chi agli ingegneri alla società le tecnologie e queste vengono poi usate manipolate ma gli scienziati poi se ne sono lavati le mani bene da qualche anno a questa parte le cose cambiano le cose stanno cambiando io stesso ho iniziato a dedicarmi prevalentemente questioni che hanno a che fare con la sostenibilità dopo gli appelli che ho cominciato a ricevere da scienziati soprattutto da parte di scienziati inglesi ad esempio che in generale mondo anglosassolo diciamo che ha una tradizione di di protesta e di ribellione più forte che non che non di quella che abbiamo noi ho cominciato a ricevere appelli da parte di colleghi dell'istituto di fisica del regno unito per esempio che mi sollecitavano a prendere posizione a cercare di muovermi nella direzione di una più efficace comunicazione della gravità della situazione ed è questo il motivo che questa sera mi porta qui da voi dunque nel titolo della mia presentazione compare anche il titolo la parola sostenibilità una parola che ormai è diventata talmente usata in tutti i contesti quello che è sostenibile e buono quindi aggiungiamo la parola sostenibile insieme a qualsiasi altra cosa c'è la moda sostenibile le vacanze sostenibili i weekend sostenibili le auto sostenibili le scuole sostenibili e via dicendo e quindi ha perduto il suo significato originario si parla di società sostenibile come quella in grado di soddisfare i bisogni di adesso senza compromettere la probabilità di sopravvivenza delle generazioni future questo è il primo è la prima definizione che è stata data cui ha fatto seguito quella che conoscete meglio è del 1987 in cui però attenzione non si parla più di sostenibilità si è cominciato a parlare di sviluppo sostenibile e purtroppo nella testa della maggior parte della gente consciamente o inconsciamente c'è questa sovrapposizione fra questi due concetti sostenibilità sviluppo sostenibile bene sono due concetti diversi tenetelo a mente tenetelo a mente la sostenibilità è riferita a una situazione globale di una società lo sviluppo sostenibile è riferito lo sviluppo c'è addirittura una scuola di pensiero che ritiene che il concetto di sviluppo sostenibile sia uno simoro cos'è uno simoro è una è una un'espressione che si autocontraddice perché parte dal presupposto che se c'è sviluppo inteso come crescita economica non può esserci una società sostenibile e viceversa questo non è un argomento su cui vogliamo parlare magari ci troviamo fra sei mesi e parliamo di questo perché è un argomento appunto in cui le opinioni contano molto ancora rimaniamo sui fatti i fatti sono questi che esiste una narrativa con cui la società vi racconta che cos'è la sostenibilità e la narrativa più comune è questa si dice che è sostenibile l'intersezione fra una dimensione sociale ambientale ed economica quindi si interpreta la sostenibilità come un compromesso cioè una cosa è sostenibile se accontenta un pochino l'economia senza disturbare troppo l'ambiente e senza scontentare troppo la gente quindi tre pilastri della sostenibilità ambientale sociale ed economica le tre p le chiama la gente ma ne avete sentito parlare di sicuro la gente però voglio dire chi vi racconta questa narrativa sta mentendo perché la realtà che non è una realtà opinione di qualcuno ma la realtà biofisica del mondo è un'altra la realtà vi dice che l'economia è una parte contenuta nella società e la società è una parte contenuta nell'ambiente quindi è sbagliato cercare un compromesso perché comunque comunque il rapporto che c'è fra economia società e ambiente non è un rapporto paritario se voi danneggiate l'ambiente di riflesso danneggiate la società e di riflesso danneggiate l'economia poi la gente sapete come succede nel mondo degli scienziati degli studiosi del mondo accademico si è affannato a trovare anche delle definizioni diverse per cui hanno inventato ad esempio i quattro aspetti della sostenibilità si è passati da tre pilastri a quattro aspetti naturale sociale politica ed economica per cui trovate ad esempio anche nei giornali figure di questo tipo che vi parlano della sostenibilità ad esempio della città di San Paolo prendendo quattro aspetti e mettendoli insieme qui si parla di circoli della sostenibilità purtroppo però la realtà se ne frega se mi permettete di come la gente sceglie di narrare queste storie la realtà va avanti per i fatti suoi e la realtà di San Paolo è questa questo non è un fotomontaggio è una fotografia aerea fatta da un fotografo amico mio che fa vedere come esistono a San Paolo delle zone della città dove c'è un muro che separa il quartiere dei ricchi dove vedete ciascuno ha la sua piscinetta sulla terrazza e le slam e le favela dei poveri ora quando voi tornando indietro un attimo vedete questi indicatori di sostenibilità che vengono calcolati da questi da questi consessi di studiosi io mi chiedo se mi dicono che c'è un certo indicatore che a San Paolo mi dice che che ne so la spazzatura è sostenibile la raccolta della spazzatura io mi chiedo stanno parlando di questa zona a destra? stanno parlando della zona a sinistra? o stanno facendo la media fra le due? in tutti e tre i casi mi stanno raccontando una balla questa è la verità questa è la realtà capite? la realtà è più complessa di quello che una descrizione fatta di tre pilastri o di quattro cos'erano quattro aspetti sia in grado di dare ora l'intuizione che questo tipo di narrativa sia scorretta ce l'hanno molti studiosi in effetti e cercano di fare del loro meglio per venirne fuori si parla quindi di cinque elementi della sostenibilità sociale, economica, ecologica spaziale e culturale ma si parla anche di otto nuovi elementi della sostenibilità a cui poi è fatto seguito l'invenzione delle nove dimensioni della sostenibilità materiale, ambientale, ecologica sociale, culturale, legale economica, psicologica e politica per arrivare finalmente a quello che già conoscete i 17 obiettivi a questo punto intanto notiamo una cosa interessante che prima si parlava di sostenibilità adesso si è passato a parlare di sviluppo sostenibile questi non sono obiettivi di sostenibilità sono obiettivi di sviluppo prima lo capite e lo accettate meglio è perché vi dice qualche cosa sulla politica che sta dietro nati nel 2015 sono proiettati al 2030 ma la gente non si è accontentata di definire 17 obiettivi ha definito ha definito anche 36 dimensioni 169 bersagli e 244 indicatori di sostenibilità perché è stato fatto questo? perché qualsiasi politico non è in grado di capire quello che gli viene detto da uno studioso della sostenibilità o dell'ecologia o delle scienze sociali però se voi gli dite guarda questi sono 244 indicatori lui ne cercherà un paio lavorerà su quelli per poter dire io sto lavorando per la sostenibilità questa è la realtà delle cose questo è quello che viene fatto per cui tra i 244 indicatori che accompagnano i 17 obiettivi voi trovate ad esempio l'eradicazione della malaria il che va benissimo ma trovate anche il numero di cellulari per unità di popolazione e questo mi fa pensare che la mia sostenibilità non ha nulla a che fare con il numero di cellulari ha a che fare col fatto che la gente stia bene molto di più quanto meno ora questo tipo di approccio si chiama approccio riduzionista in cui si cerca di studiare una cosa così complessa come la realtà frammentandola in tanti pezzettini più sono meglio è in modo da poter studiare molto più semplicemente i singoli pezzettini c'è la siccità in questa zona scaviamo pozzi portiamo pozzi là non si guarda il complesso delle situazioni che hanno creato la siccità si risolve il problema locale qui ne sono indicati 244 peccato perché non solo la scienza che uno dice vabbè gli scienziati hanno studiato sanno veramente com'è la questione ma persino l'economia sa qual è la situazione vedete questo grafico stranissimo una stella a tante punte bene questo è un grafico che viene preparato ogni anno dal forum economico mondiale non sono scienziati non sono neanche politici sono economisti e rappresentano l'espressione più diciamo pure l'espressione più colta più alta del del capitalismo l'economia per come la conosciamo bene loro ogni anno preparano una lista vedete questi quadratini colorati di possibili guai globali abbiamo i disastri naturali il costo dell'energia il collasso delle infrastrutture i furti di dati il fallimento delle istituzioni finanziarie la deflazione le armi di istituzione di massa le epidemie i nazionalismi le malattie croniche tutto quello che di terribile può capitare è raccolto in questa lista poi cosa fanno uniscono i puntini ogni segmento che per esempio unisce l'instabilità sociale all'invecchiamento della popolazione è rappresentato da un segmento e più questo segmento è grosso più vuol dire che c'è un rapporto diretto ora ci sono alcune cose che noi possiamo immaginare per conto nostro senza che ce la dica qualcuno ovvero sia se c'è guerra c'è povertà se c'è povertà c'è migrazione di massa questo lo immaginiamo anche noi ma ancora meglio capiamo perfettamente che se c'è guerra se c'è povertà ma se c'è povertà c'è guerra capite? quindi voglio dire non c'è una causa e un effetto è tutto collegato la cosa più difficile da interpretare è perché mai le disuguaglianze siano legate al costo dell'energia alle crisi idriche o ai conflitti interstatali o all'inflazione bene questo studio che cosa dimostra? dimostra semplicemente che ci sono anche le bolle finanziarie qui per esempio la dipendenza dalla rete questo dimostra semplicemente è che il tentativo di risolvere separatamente i guai non porta da nessuna parte non ha mai portato da nessuna parte quello che va cambiato è un intero sistema sociale economico produttivo commerciale che ha creato questi guai facili a dirsi non facili a farsi però credetemi gli strumenti per cambiarlo ci sono tutti ci sono tutti apro una piccola parentesi quando gli Stati Uniti sono entrati in guerra nel 1940 se non erro o 41 non importa a un certo momento anche per il fatto che la flotta era stata distrutta per l'arbor hanno dovuto affrettarsi a riarmare la marina e ad armare un esercito per mandarlo in giro per il mondo l'hanno mandato in Europa l'hanno mandato in Estremo Oriente per fare questo nel giro di meno di 24 mesi l'intero settore industriale statunitense è stato convertito alle produzioni belliche quindi vuol dire che si può fare vuol dire che una rivoluzione sulla destinazione d'uso delle infrastrutture industriali e produttive può essere fatta è stata fatta in poco tempo al tempo c'era la guerra adesso la situazione è molto più grave e non interessa soltanto agli Stati Uniti tanto per dire comunque che le famose 36 dimensioni che descrivono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile vengono monitorate di anno in anno dalle Nazioni Unite perché Nazioni Unite insomma fa le cose bene caspita bene questa è la situazione dopo cinque anni vedete queste sono le 36 dimensioni quelle che hanno l'archetto verde vuol dire che hanno effettivamente registrato un progresso rispetto al 2015 quelle che hanno l'archetto giallo sono ferme quelle che hanno l'archetto arancione sono ancora più indietro cioè non hanno praticamente speranza di essere mentre quelle che hanno l'archetto rosso sono le cose che sono peggiorate invece di migliorare ora questo schema da una parte ci dice una cosa che l'intero castello di carte dei 17 obiettivi non è servito a nulla non siamo qui per discutere il perché e il per come ma ci dice anche un'altra cosa preoccupante perché io questo non l'ho visto nella prima pagina dei giornali perché non l'ho visto perché non l'hanno pubblicato nonostante le Nazioni Unite stesse raccomandino la diffusione a tutti i livelli di questo tipo di informazioni abbiamo una piccola parentesi prima di andare avanti ma allora questa sostenibilità che diavolo è guardate questo schema non importa se non siete avvezzi a questo tipo di simboli a sinistra qui abbiamo l'ambiente a destra abbiamo le attività umane che succede che l'ambiente genera delle risorse rinnovabili e noi le sfruttiamo e poi l'ambiente le rigenera di nuove sono rinnovabili per questo dall'altra parte noi creiamo inquinanti e spazzatura e l'ambiente li ricicla la terza cosa è che ci sono risorse non rinnovabili vedete non entra niente che noi usiamo e estraiamo che cos'è un mondo sostenibile è presto detto un mondo sostenibile è un mondo in cui la velocità con cui noi produciamo spazzatura è minore della velocità con cui l'ambiente la ricicla è un mondo in cui lo sfruttamento delle risorse rinnovabili è minore anzi la velocità con cui sfruttiamo le risorse rinnovabili è minore della velocità con cui l'ambiente le rigenera terza condizione stop estrazione di risorse non rinnovabili perché non sono sostenibili quando saranno finite la generazione prossima si ritroverà i serbatoi vuoti e non più la benzina per metterci dentro quindi quando vi parlano di sostenibilità quando vi dicono che una cosa è sostenibile che c'è l'energia sostenibile il turismo sostenibile dovete farvi questa domanda questa cosa che mi dicono essere sostenibile va nella direzione di avere questo bilancio J2 cioè il flusso di produzione di spazzatura minore del flusso di riciclo e avanti di questo passo se non lo è non è sostenibile punto il resto perdonatemi per una volta la volgarità sono cazzate questa è la realtà non è un'altra diamo anche qualche dato per capire in che mondo stiamo vivendo 2000 tonnellate di risorse vengono estratte dal suolo ogni secondo 24 ore al giorno 7 giorni alla settimana un'area pari a un campo da calcio viene deforestata irreversibilmente ogni secondo 11 tonnellate di rifiuti tossici non rifiuti eh cioè non la spazzatura la roba velenosa idrocarburi mercurio metalli pesanti eccetera 11 tonnellate vengono gettate in mare ogni secondo questo è il risultato di quello che facciamo vedete dal 1980 al 2020 le emissioni di CO2 hanno continuato ad aumentare le parti per milioni in atmosfera di CO2 continuano ad aumentare la variazione della temperatura continuato ad aumentare la variazione del livello del mare continuato a crescere consumo di energia del petroldo continuato a crescere carbone anche gas anche questa è la situazione questo è il contenuto dell'articolo del frontespizio dell'articolo che vi ho mostrato all'inizio in cui vi dicevo 11.000 scienziati sono presi la briga di scrivere ehi ragazzi questo sta succedendo queste sono fotografie che non vengono da film di fantascienza questo è Sausalito che è la penisola che sta che è collegata dal Golden Gate alla città di San Francisco bruciata tutta questo è il confine ungherese questo è il Medio Oriente questa mi pare che sia la Florida perché? perché stanno succedendo con frequenza sempre maggiore tutta una serie di accadimenti locali che devastano localmente ma le motivazioni di ciascuno di questi è da ricercare in una cosa sola il cambiamento climatico vediamo gli scenari allora che la scienza prevede questi sono i due scenari se rimanessimo al di sotto di un grado e mezzo oppure sui due gradi la scienza già vi dice che abbiamo un aumento degli eventi catastrofici la necessità di azioni brutali di mitigazione e adattamento un calo della produzione di cibo un aumento dei disordini sociali e un aumento dell'immigrazione la cattiva notizia è che noi supereremo i due gradi questo lo dice anche l'IPCC sapete il panel internazionale che si occupa di fare queste previsioni raccoglie 35.000 scienziati e passa tutto poi ai governi se invece mantenessimo gli impegni di Parigi che erano pensati per garantire meno di due gradi arriveremo tra i due gradi e mezzo e i due gradi e otto questo comporterebbe eventi catastrofici continui soprattutto siccità con un calo insostenibile della produzione di cibo quindi conflitti diffusi e migrazioni se invece proseguiamo con l'andazzo che abbiamo oggi in questo momento arriveremo tra i due e i tre e due il che comporterà una siccità così grave che la produzione agricola a livello mondiale crollerà questo creerà migrazione di massa le Nazioni Unite prevedono un miliardo di migranti per fine secolo ma la notizia ancora peggiore è che tra questi migranti ci saremo noi perché l'Italia sarà desertificata almeno da Roma in giù e quindi non potrà più produrre cibo ovviamente questa situazione creerà dei collassi sociali ed economici non sono io a dirlo sono le Nazioni Unite le prospezioni delle Nazioni Unite pandemie che avranno libero accesso tanto non vi sarà più una struttura sanitaria internazionale ovviamente questo porterà a guerra senza contare poi le inondazioni che avranno fatto piazza pulita delle città costiere non solo Venezia parlo di Genova Barcellona Amsterdam Stoccolma Shanghai New York Miami San Paolo in Brasile che succede se invece non facessimo nulla per fortuna noi siamo ancora ancora passatemi la crudele analogia in zona arancione ma se fossimo in zona rossa cioè non facessimo più nulla l'aumento di temperatura si attesterebbe fra i 4,1 e i 4,8 e il mondo diventerebbe inabitabile vi sarebbe un crollo ecosistemico completo un'estinzione di massa che con tutta probabilità coinvolgerebbe l'uomo e i mammiferi in generale capite? questo è il livello della situazione ripeto siamo nell'arancione stiamo lottando al massimo per spostarci nella zona gialla ma la zona gialla dà luogo a un mondo che i vostri nipoti i nostri nipoti per i nostri nipoti sarà un mondo molto peggiore del nostro di oggi a proposito di estinzioni questa è la situazione adesso queste sono le specie minacciate di estinzione come vedete non ce n'è per nessuno si va dagli insetti alle specie vegetali ai pesci mammifori crostace gli anfibi gli uccelli e a proposito di estinzione questa è un'altra cosa fantastica da dire e cioè la massa misurata in chilogrammi di carne dei mammiferi del mondo è costituita al 60% da animali poveracci che noi teniamo in gabbia uccidiamo mentre sono in giovane età hanno un'età circa paragonabile a quella dei nostri bambini e li mangiamo il 60% il 36% siamo noi uomini il 4% sono tutte le altre specie di mammiferi al mondo ora non occorre essere uno scienziato sapete per capire che c'è qualche cosa di sbagliato di profondamente sbagliato in questo non abbiamo tempo non abbiamo voglia non abbiamo neanche necessità di capire come questa situazione sia legata al cambiamento climatico ma vi garantisco che è legata al cambiamento climatico non come effetto ma come causa del cambiamento climatico e la politica cosa fa la politica cosa ha fatto la politica allora vedete che dal 1992 a livello mondiale i politici sono trovati una volta all'anno in queste riunioni che si chiamano COP Conference of Parties hanno prodotto dichiarazioni mandati protocolli ecco il protocollo di Chioto che tutti conoscete nel 97 agreements cioè accordi dichiarazioni piani d'azione piani quinquennali road map piattaforme emendamenti meccanismi per porre il rimedio quindi accordi internazionali per limitare le emissioni questo grafico blu vi dice come sono andate le emissioni in tutti questi anni vedete un qualche modifica nel trend come si dice adesso no nessuna finalmente nel 2015 arriva l'accordo di Parigi oh caspita vedete queste sono fotografie tratte dal sito dell'accordo di Parigi qualcuno diceva che non sarebbe potuto accadere invece il mondo si è riunito tutto assieme e 175 paesi diventati 195 hanno firmato l'accordo di Parigi sul clima oggi è un grande giorno per i nostri bambini e per i nostri nipoti vedete tutti sono contenti risultato lo vedete qui questa è una fotografia dell'inettitudine della politica questo è quello che è successo dopo l'accordo di Parigi niente ritorniamo a questo che vi ho già mostrato dopo l'accordo di Parigi vedete non si non si vede traccia di cambiamento se non piccole fluttuazioni in quello che sta succedendo di questi indicatori dello stato di salute del pianeta questo è l'osservatorio internazionale sull'operato dei paesi firmatari dell'accordo di nuovo le Nazioni Unite che sono molto in gamba forniscono un monitoraggio di quello che sta succedendo e hanno diviso i paesi in vedete paesi della zona verde vuol dire che con quello che fanno loro il mondo andrebbe a un grado e mezzo paesi della zona gialla quello che fanno loro il mondo andrebbe a due gradi eccetera eccetera tutte le nazioni hanno firmato degli impegni per rimanere in zona verde andiamo a vedere quante li hanno mantenuti vedete sono solo due Marocco e Gambia due paesi africani Marocco e Gambia delle 195 nazioni che hanno sottoscritto a Parigi i precisi impegni di contenimento delle missioni solo due li stanno rispettando e vedete che insomma c'è chi comunque cerca di tener botta chi lavora in modo insufficiente tra cui l'Unione Europea chi altamente insufficiente tra cui la Cina chi criticamente insufficiente come gli Stati Uniti quindi non si fa nulla magari non si fosse fatto nulla date un'occhiata a questo dato gli incettivi governativi che tutti i governi del mondo danno ogni anno alle compagnie di estrazione dei combustibili fossili sono soldi nostri sapete perché sono dei governi degli stati quindi vengono dalle nostre tasche ammontano a più di 5.000 miliardi di dollari l'anno caspita ma chi te l'ha detto dove hai trovata questa informazione Fondo Monetario Internazionale Fondo Monetario Internazionale non l'ho trovata in un giornale e neanche dal bollettino del WWF vedete in questo schematto vedete la colonnina rossa questi sono i sussidi pubblici alle fonti fossili queste sono le prese pubbliche per l'istruzione di tutto il mondo questo è il PIL dell'Africa quindi il PIL dell'intero continente africano è la metà di quello che regaliamo alla Shell alla BP alla Exxon all'Eni perché continui a estrarre petrolio carbone e gas questo è il valore finanziario del patrimonio artistico italiano interessante no? molto interessante bene questa è un'affermazione che ha fatto Antonio Guterres che voi sapete è il segretario generale delle Nazioni Unite lui ha detto bene con i sussidi alle fonti fossili come sulle virgolette usiamo i soldi della gente per finanziare gli uragani stop cosa voglio io? io voglio che questa frase campeggi a caratteri cubitali sulla prima pagina di tutti i quotidiani quando l'ha detto Antonio Guterres io avrei voluto leggerlo su tutti i quotidiani ne ha parlato la CNN incredibilmente perché la CNN comunque fa delle cose giornalisticamente parlando sensate e pochi altri giornali in Italia nessuno se non magari un ultrafiletto perché citato da qualcun altro eccetera ma io mi ritrovo oggi oggi sulla prima pagina il problema della chiusura degli impianti scistici con tutta la comprensione sincera e la simpatia per gli operatori del settore ma ragazzi voglio dire i nostri nipoti chi di noi avrà dei nipoti che saranno piccolini fra vent'anni chiederanno nonno nonna ma dove cazzo eri tu quando stava succedendo tutto questo questo è quello che vi chiederanno ci chiederanno non lo so io non ci sarò perché allora non vedete per strada gente con i capelli dritti dal terrore che scappa per ogni dove perché purtroppo il negazionismo cioè la nostra capacità di trascurare i segnali che ci arrivano e le informazioni che ci arrivano è una caratteristica fisiologica quasi dell'uomo nel senso che a parte gli svitati che negano che esista riscaldamento globale vabbè quelli o sanno di essere di mentire lo fanno in malafede oppure semplicemente sono così ci sono delle altre motivazioni si chiamano negazioni interpretative negazioni implicative è quel tipo di meccanismo che cerca di salvaguardare la nostra integrità spirituale per cui di fronte alla cattiva notizia non ci crediamo ricordate che vi ho parlato dell'elaborazione del lutto chiaramente a un certo momento per quanto noi ci rifiutiamo di accettarlo quando c'è il cadavere davanti a noi non veniamo più fuori insomma prima o dopo passerà una notte passerà una settimana ma piano piano verrà metabolizzata questa cosa nel caso dei cambiamenti climatici si fa presto invece a dire beh ma tanto noi in qualche modo ce la faremo siamo un paese ricco beh sono cose che succedono dall'altra parte del mondo beh la tecnologia ci salverà non sarà la tecnologia a salvarci ve lo dico io che sono uno scienziato non sarà la tecnologia sarà la nostra capacità per esempio di fare delle comunità di ritrovare un senso di comunità che è completamente azzerato a partire dalla dalla rivoluzione industriale con l'urbanizzazione ma anche di questo ci sarebbe da parlare sette ore ma non non facciamo in tempo oh la la questa è una metafora e con questo finisco di deprimervi è una metafora che usa un mio collega inglese che dice sempre perché sai a un certo momento la gente chiede oh va bene tu sei uno scienziato ma sei sicuro di quello che dici io dico no non sono sicurissimo c'è un intervallo di incertezza anche quindi quando prima vi ho parlato degli scenari però posso assegnare una probabilità che accada qualcosa e allora io chiedo ma salireste mai su un aereo se vi dicessero che c'è un'alta probabilità che si schianti e tutti dicono no non ci salirei mai beh la cattiva notizia è che ci siete già sopra l'aereo è già in pista bisogna fare qualcosa bisogna fermarlo e allora cosa facciamo e qui arriva l'ultima parte che parzialmente vi fa recuperare non dico il buon umore ma vi fa recuperare un atteggiamento positivo per quello che sta succedendo però io ho dovuto prima e voluto prima dirvi ragazzi è morto è morto questo mondo è già morto è morto che cammina accettiamolo prima lo accettiamo meglio sarà per tutti e cerchiamo quindi da oggi di lavorare per far sì che i danni siano limitati c'è modo di farlo sapete c'è come modo di farlo e non è quello di sostituire il motore a scoppio con il motore elettrico con l'idrogeno è quello di lasciare a casa l'auto capite? quindi è qualche cosa che man mano che gli eventi catastrofici aumenteranno la gente prenderà sempre più coscienza di quello che sta succedendo e scenderà in piazza questa è il nocciolo della questione quindi dalla scienza parliamo adesso Marco sicuramente mi darà un altro paio di minuti dalla scienza passiamo a parlare di strategia cosa dobbiamo fare? allora c'è una cosa fondamentale che tutti voi personalmente potete e dovete fare e cioè dopo che avete sentito me parlare riportare queste cose a chi non mi ha sentito ok? sono a vostra disposizione se volete il materiale problemi zero ma così come l'epidemia una volta che è partita non è più fermabile se oggi non so quanti siate supponiamo che siate in 50 se oggi 10 di voi sono colpiti da quello che dico ci credono e provano a parlarne ai propri familiari colleghi di lavoro nipoti nonni amanti e quant'altro bene c'è la probabilità c'è la possibilità che questo cominci a diventare un patrimonio di consapevolezza sempre più diffuso ho parlato di strategia qual è la strategia che le scienze individuano per venirne fuori vedete questo questo è un grafico non importa se entriamo nei dettagli pubblicato da una rivista di fisica c'è qualcuno che si è preso la briga di fare un'analisi statistica di tutti tutte le forme di protesta che si sono succedute in più di un secolo a tutti i livelli dovunque nel mondo e si è vista una cosa stranissima che nessuno immaginava che esiste un valore numerico di soglia di una certa quantità che è rappresentata dal prodotto della gente che protesta che percentuale della popolazione è moltiplicato le volte che protesta bene quando questo numero dato dal prodotto il numero di volte che vado giù in piazza alla settimana anzi all'anno e il numero di persone che vengono con me quando questo prodotto supera una certa soglia numerica improvvisamente le proteste diventano efficaci qui abbiamo del 70% quindi vuol dire che evidentemente il comportamento sociale delle masse obbedisce a certe leggi statistiche che in questo caso sono state scoperte quando è che c'è questa percentuale più alta di successo quando le proteste sono non violente tutti noi abbiamo in mente vedete queste fotografie c'è Rosa Parks c'è Gandhi ci sono i monaci buddhisti c'è Martin Luther King ci sono le suffragette c'è la blueprint for revolution in cui senza sparare un colpo si sono sbarazzati gli scelarnazzi di Milosevic di Marcos nelle Filippine gli indiani sono riusciti a parar via all'esercito britannico l'esercito imperiale britannico senza conflitti armati e si vede come una strategia non violenta portata avanti con un rigore logico che è un rigore scientifico se fatta bene è quasi sempre ha quasi sempre funzionato vedete questa questa è una fotografia che ho aggiunto stasera ed è la fotografia di quella fantastica suorina che si è inginocchiata davanti ai militari del Myanmar ma cosa vedete in questa fotografia non è la sola essere inginocchiata ci sono anche due poliziotti in tenuta antisommossa che sono inginocchiati davanti a lei con le mani giunte cosa vuol dire questo vuol dire che in qualche modo esistono delle forme di protesta così efficaci da penetrare attraverso il gioco del braccio di ferro fra voi che volete una cosa e un'altra fazione che ne vuole un'altra vi mostro per chiudere questa fotografia ah no prima vi volevo anche dire che c'è comunque una statistica che vi dice che su 323 conflitti più del 50% nel caso dei conflitti non violenti ha portato alla vittoria quindi al cambiamento chiesto dicevo guardate questa fotografia questa è una fotografia iconica si chiama sono 300 mamme che sono scese in strada a Londra la primavera dell'anno scorso anzi del 2019 e stanno allattando ciascuna il proprio bambino al seno hanno bloccato il centro di Londra che succede? ci sono 300 mamme attenti che accettano di fare un'azione che è difficilissima da fare esporre se stesse ma non solo a livello di blocco il traffico quindi faccio qualcosa di illegale ma esporre se stesse anche umanamente allattando il proprio bambino sedute per tre ristrada che succede? che ovviamente hanno mandato immediatamente la polizia e i poliziotti sono fermati ma più andate a toccare una mamma salattando un bambino santo cielo non hanno osato far nulla questa ha avuto un eco molto grande in Inghilterra e allora noi ci chiediamo ma cosa stavano facendo qui? perché stavano protestando stavano esattamente protestando per le cose che vi ho raccontato per il destino dei propri figli che quindi assumono anche una valenza allegorica in quello che stanno facendo per il destino dei propri figli ma allora voi vi dite caspita come sono queste sono coraggiosissime fanno parte di qualche movimento no queste sono mamme molti di loro avranno un lavoro non hanno tempo di scendere in piazza con i ragazzi Dio li benedica di Fridays for Future non hanno tempo da perdere hanno paura ma cosa vuol dire questo? vuol dire che qualcuno ha raccontato loro bene come stanno le cose quindi è questa la direzione in cui muoversi capite? nel momento in cui non solo queste 300 mamme ma tutte le mamme che hanno un bambino all'asilo scendono in piazza nello stesso momento allora lo scenario cambia allora lo scenario cambia vi lascio con questa fotografia che non c'entra niente che però mi piace quindi a un certo momento penso che sia anche il caso che finiamo con una cosa bella no? non che io abbia detto cose brutte le cose che vi ho detto non sono brutte o belle sono la verità io non sono ottimista o pessimista vi racconto i fatti poi ci sono persone più in gamba di me più istruite di me per quel che riguarda le scienze sociali che sanno quello che va fatto e stanno cominciando a provare a farlo a livello internazionale ed è da loro che io ho ricevuto l'input che mi ha fatto conoscere Cesare che mi ha fatto conoscere Marco e che mi ha portato qui da voi stasera ecco questo grosso modo è tutto io direi che posso interrompere la condivisione e mettermi a vostra disposizione nel caso abbiate qualche cosa da chiedermi o qualche approfondimento fermo restando che comunque sono virtualmente a vostra disposizione anche dopo mi scrivete scrivete a Marco lui vi dà la mia e-mail e eventuale materiale posso fornirvelo ripeto il primo dovere di ciascuno di noi è ok ho capito una cosa che non sapevo prima la dico a qualcun altro caspita non aspettate la tecnologia che vi salve ok grazie Francesco ti ho concesso più di due minuti ma avrei dovuto di grazie Marco ma avrei dovuto concederti un paio d'ore diciamo come minimo è perché io sono cerchio del discorso non so dove non so dove andiamo a finire con le domande perché ne abbiamo tantissime anche perché siamo per fortuna molti più di 50 quindi chissà che il passaparola no ma guarda ti dico che non può non funzionare se la se la se la se la se la trasmissione è corretta ricordati quelle 300 manne chi diavolo ne ha tirate fuori di strada di casa a fare una cosa ci vuole un coraggio caspita allora cerchiamo di essere tutti velocissimi e volevo lasciare un attimo la parola a Samuele di Friday for Future e Extinction Rebellion di Bellion di Mogliano Samuele ti lascio la linea ok vai ciao a tutti comincio ringraziando il professore per questa fantastica presentazione e il prof ha spiegato bene perché la situazione attuale ci obbliga ad agire ad intervenire e anche accennato a come potremmo intervenire e agire e io voglio brevemente dare qualche altro dettaglio su appunto come individui diciamo ordinari possono contribuire a risolvere un po' questa situazione e io faccio parte come ha detto Marco di un gruppo ambientalista moglianese e quello che noi facciamo siamo nati poco più di due anni fa facciamo sia azioni in qualche modo prorompenti che vogliono attirare l'attenzione sul problema l'attenzione tanto dei cittadini quanto delle istituzioni politiche ad esempio e oltre a queste azioni portiamo avanti anche dei progetti per sensibilizzare la popolazione per dialogare in qualche modo con le istituzioni ad esempio con la commissione ambiente di mogliano con la quale abbiamo approvato la dichiarazione di emergenza climatica ed ecologica come accennato da Marco dunque come un cittadino qualunque può contribuire noi proponiamo per questo breve periodo un appuntamento infatti il mio gruppo coordinato con associazioni di tutta Italia e ci mobiliteremo la prossima settimana giovedì prossimo primo aprile per attirare attenzione sul tema della finanza fossile cioè della responsabilità che grandi banche e assicurazioni hanno la responsabilità che hanno nell'allentare la transizione ecologica questa responsabilità emerge in modo molto chiaro dal fatto che ogni anno banche commerciali investono nei combustibili fossili 700 miliardi di euro questo avviene ogni anno anche dopo gli accordi di Parigi e le prospettive di un cambiamento in immediato sono al momento molto molto scarse molto lacunose ecco per questo è importante i cittadini ordinari facciano sentire la propria voce e per questo vi invitiamo giovedì prossimo a Mogliano sarà nel pomeriggio dalle tre un incontro in piazza Caduti per trattare del tema appunto della finanza fossile e se in questa occasione non avrete diciamo disponibilità vi invito comunque a rimanere in contatto con il professore ma anche con il movimento di cui faccio parte cioè Extinction Rebellion Fridays for Future che vi darà appunto molti spunti su come potrete agire perché il fatto che la crisi climatica che stiamo vivendo e affrontando sia un problema così vasto implica che le azioni debbano essere immediate e su tutti i livelli non sono purtroppo sufficienti piccole azioni individuali è necessaria una mobilitazione di buona parte dei cittadini finisco qui il mio intervento e vi ringrazio tutti e tutte grazie grazie Samuele quindi appuntamento il primo aprile alle tre in piazza Caduti Francesco abbiamo un sacco di domande Francesco cerchiamo di essere super rapidi anche se questi argomenti e questi temi richiederebbero ore di discussione allora ne raccolgo due sulle fonti energetiche cosa ne pensi del solare e qual è la percentuale di solare in Italia oggi e se ha ancora senso parlare del nucleare allora dunque il solare in Italia è sotto utilizzato anche perché voglio dire noi potremmo coprire aree molto più grandi di pannelli solari in generale è faccio un passo indietro diciamo questo allora le fonti fossili vanno eliminate ok quello che dobbiamo accettare è che le fonti rinnovabili quindi solare geotermico idroelettrico eolico da sole non sono lontanamente sufficienti a sostituire l'energia che noi stiamo consumando da fonti fossili sarà necessario stringere diciamo così i cordoni della borsa dell'utilizzo di energia in modo drastico drastico quindi ce ne scordiamo le navi che sono in coda nel canale di Suez le economie dovranno diventare sempre di più economie locali perché non ci sarà l'energia sufficiente per fare andare tutto ok in questo senso il solare è destinato comunque a giocare la parte del leone una parte del leone insieme all'eolico perché saranno le fonti energetiche che consentiranno le attività che di fatto sono alla base della 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 prosperità di una comunità ma tutto quello che di fatto è inutile verrà eliminato perché non ci sarà l'energia per farlo ora come dice un mio collega che si occupa appunto di energie rinnovabili lui dice che noi dovremo smettere di far sì che l'offerta di energia insegua la domanda per cui più energia chiedo per fare delle cose più me ne viene data dovrà rovesciarsi la prospettiva noi dovremmo usare l'energia quando e quanta vorrà l'ambiente perché di notte il solare non sarà usabile dove non c'è vento non sarà usabile l'eolico e quindi saremo noi a dover adattare le nostre attività sociali a quello che di rinnovabile la natura pota darci con i suoi ritmi e con le sue cose quindi non è una questione di passaggio ai motori elettrici o ai motori a idrogeno non c'è energia sufficiente per fare l'idrogeno per fare andare le macchine le auto stanno in garage salvo quelle che garantiscono che la società le ambulanze per dire o le auto della polizia che so faccio per dire poi per il resto sono mezzi pubblici e nucleare? sul nucleare allora il nucleare lo dico subito non è una soluzione è un problema e lo dico parlando da fisico io vengo da una comunità che è tradizionalmente favorevole all'energia nucleare questo essere favorevole all'energia nucleare è costruito in realtà su un'analisi solo parziale della sicurezza del nucleare le centrali nucleari oggi sono sicure al 100% ma qualche anno fa in Francia è bastato un inserviente ubriaco che ha lasciato aperto il rubinetto e in cascata ha creato un blocco di una tubazione con perdita nell'ambiente di materiale radioattivo ma questo può anche essere diciamo così accettabile o fisiologico ma quello che noi non dobbiamo dimenticare il nucleare è che se Bin Laden invece di mandare sulle torri gemelle i due aerei li mandava sulla centrale di Trimail Island o lì vicino in questo momento dieci anni dopo New York è ancora un deserto capite? questo è il livello di pericolosità del nucleare poi ci sono le scorie radioattive per sbarazzarsi delle scorie radioattive la Francia ha pensato bene di imbarcarle in navi da carico e portarle in Senegal finché non li hanno scoperti chi di voi è disposto ad avere un deposito di scorie radioattive in giardino? nessuno ovviamente perché sono pericolose perché non sono contenibili perché durano diecimila anni sapete poi dal punto di vista economico qual è il tempo medio di messa in opera di una centrale nucleare in Europa sono 16 anni dal momento in cui viene deciso che è necessario costruire una centrale nucleare non parlo dell'Italia che non ha il nucleare parlo della Germania parlo della Finlandia di paesi che siamo considerati abituati a considerare efficienti 16 anni oggi decidiamo di togliere i soldi che diamo alle rinnovabili e concentrarli sul nucleare bene per i prossimi 16 anni avremo solo peggiorato la situazione queste sono queste sono realtà di fatto sono numeri poi ci sono tutti i discorsi sul fatto che l'uranio stesso è una sorgente non rinnovabile finisce chi ce l'ha l'uranio il Canada l'Uzbekistan l'Australia non sto scherzando su queste tre che l'hanno e poi c'è il discorso della proliferazione parallela di armi nucleari chi è che ci garantisce che state mettendo su una centrale nucleare e non una fabbrica di bombe atomiche quindi c'è sì ma me lo faccio per me il nucleare no non funziona così non funziona così non funziona così sappiate che se oggi raccogliete poi Marco finisco scusami se oggi andate nell'altopiano di Asiago e raccogliete dei funghi ok una parte della radioattività di 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 Cernobil ve la mangiate oggi oggi portavo gli studenti su in alto piano a fare le misure col Geiger Tecchetta allora hai già detto ci hai già raccontato cosa facciamo con le auto ma c'è una domanda che è relativa all'automotive ma che ci porta su un altro tema l'ascoltatore diceva produrre auto elettriche comporta molto meno lavoro che produrre un'auto tradizionale diciamo e quindi come si concilia la sostenibilità con la garanzia del lavoro sai non è il mio campo ma non vorrei che passasse l'equivoco che io sto cercando di tratteggiare un mondo sostenibile che però contestualmente salvaguardi il posto di lavoro la prospettiva non è questa questa non è la prospettiva corretta a me non interessa che la mia generazione conservi il posto di lavoro se io per conservare il posto di lavoro continuo a lavorare nel modo in cui sto facendo ok mio nipote non avrà il posto non il posto di lavoro perché quando la pianura padana avrà il mare che arriva a Brescia non ci sarà il posto di lavoro perché non ci sarà Mogliano questo è il livello dell'emergenza e questo è il livello difficile da capire e da accettare certo che perderete il lavoro ma lo perderete di sicuro questa è la realtà dobbiamo ricostruire la logica con cui le comunità si sostengono uscendo dagli schemi che in questo momento fanno tenere aperta l'ilva che uccide e fanno vendere dei SUV al posto di vendere delle 500 perdiamo posti di lavoro certo che li perdiamo i posti di lavoro certo che li perdiamo i posti di lavoro non c'è dubbio ma allora su cosa bisogna concentrarsi sul fare in modo che la società garantisca comunque che chi perde il posto di lavoro ce l'abbia non cercare a tutti i costi di mantenerglielo e far pagare questo ai nostri figli i famosi punti di non ritorno scusami non ho sentito scusa vediamo no no ce l'ho l'audio allora sembra da quello che ci racconti che il punto di non ritorno sia già superato aggiungo una cosa che ti ho già chiesto in maniera provocatoria un'altra volta sei un catastrofista posso eh allora sul punto di non ritorno e ripeto il punto di non ritorno è già stato raggiunto per quel che riguarda la possibilità che un domani noi riusciamo a effettuare una transizione paro paro della società basata sui fossili sui combustibili fossili alla società basata sui sulle rinnovabili questo è già stato superato tant'è vero che anche la politica ufficiale parla di che cosa di adattamento e mitigazione quindi già passa l'idea che dobbiamo adattarci a vivere peggio e cercare di mitigare il più possibile i guai quindi è già una prospettiva di non ritorno questa ok quello che bisogna cercare di fare è evitare che sia troppo tardi quando i governi si decideranno a chiudere chiudere gli impianti che emettono gas serra chiuderli a costo di usare tutti i soldi dello Stato per pagare la cassa integrazione a tutti i lavoratori ma altrimenti ripeto a pagare non saremo noi saranno i più giovani di noi e le generazioni successive questo è un po' il discorso poi cos'è che mi hai detto se sono un catastrofista no io non sono un catastrofista perché l'aggettivo catastrofista lo applichi a chi legge la realtà deducendone delle catastrofi le catastrofi stanno già avvenendo non è una mia lettura della realtà questa o quantomeno è una lettura che io condivido con chi? con le Nazioni Unite con la FAO con l'Organizzazione Mondiale della Sanità con il Fondo Monetario Internazionale con il World Economic Forum ok? con l'Unione Europea e con decine di migliaia di scienziati in tutto il mondo bene noi siamo tutti catastrofisti? no non siamo catastrofisti abbiamo l'obbligo morale di dirvi ragazzi sono in arrivo delle catastrofi cerchiamo di prepararci cerchiamo di cominciare a capire come funzionerà e come dovrà funzionare senza rimanere attaccati a tutti i costi e all'idea che si va in vacanza d'estate microfono un paio di domande collegate allora un ascoltatore ci chiede se ci sono delle previsioni sui scenari futuri anche a tempi più brevi che non i decenni e diciamo legata a questa chi certifica che Marocco e Gambia stanno veramente rispettando i parametri piuttosto che gli altri non li stanno rispettando allora diciamo questo che io immagino che è la commissione delle Nazioni Unite che fa questi monitoraggi sappia il fatto suo diciamo che è molto più facile vedere chi non li sta rispettando rispetto a chi li sta rispettando per cui il messaggio comunque arriva lo stesso cosa che mi hai chiesto poi prima se ci sono delle previsioni a tempi più brevi a breve termine le previsioni a breve termine sono paradossalmente a volte più difficili da fare perché per esempio sappiamo che certi meccanismi di feedback ad esempio il rallentamento della corrente del golfo lo scioglimento del permafrost che butterà fuori del metano e voglio dire prima o dopo succederà e quindi sul lungo termine siamo sicuri sul breve termine ancora non è non è chiara la situazione se corriamo un rischio entro dieci anni entro quindici venti o venticinque o quaranta questo non non credo che nessuno possa arrogarsi il diritto di di fare previsioni di questo tipo c'è però diciamo così una serie di strade maestre con cui partirà a un certo momento un un crollo che le Nazioni Unite definiscono collasso socio-economico globale per una parola altro che catastrofismo ragazzi ed è il ed è il crollo della produzione agricola dovuto all'essicità se crolla la produzione agricola non hanno da mangiare neanche non è che potete dire vabbè mangio carne e gli animali di elevamento cosa mangiano tra quarte l'agricoltura è fatta per darla mangiare a loro nel momento in cui crolla la produzione agricola miliardi di persone hanno fame cosa fanno stanno ad aspettare di morire no migrano migrano e questo innesca una serie di conflitti sociali non più controllabili sostanzialmente non più controllabili immaginiamo un'Italia dove non c'è più nulla di coltivabile sotto Roma e dove la pianura padana è per metà la gara cosa che facciamo viviamo di turismo come pretendiamo di fare oggi quindi ci sono appunto dei 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 grimaldelli che aprono la porta della catastrofe e quello più grosso questa è un'idea che mi sono fatto io e che non è esattamente la stessa idea che hanno miei colleghi questa è l'idea che mi sono fatto io quindi la passo come un'idea personale che è l'agricoltura quella che in questo momento rappresenta contemporaneamente il punto più delicato e il punto in cui si deve intervenire per primo per cercare di attivare questo 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 cambiamento epocale della società chi lo deve fare questo non possiamo fare noi noi quello che possiamo fare è parlare però ripeto nel momento in cui un milione di persone sono andate davanti al campidoglio negli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno ritirato l'esercito al Vietnam le cose funzionano se si fanno e d'altra parte non è che abbiamo alternativa sapete non questo è un po' il il la consapevolezza a cui sono arrivato altra domanda molto veloce quindi secondo lei non dovremo più mangiare carne certo certo che sì certo che sì questo aiuterebbe l'ambiente in tanti di quei modi che non li immaginate neanche oltre oltre a essere una cosa sacrosanta dal punto di vista etico non fosse altro per come trattiamo gli animali negli allevamenti comunque questo è uno dei passaggi ora chiaramente a me è sempre piaciuta la carne ragazzi adesso non la mangio però io ero veramente un carnivoro io spero che si arrivi in un mondo io sarò morto ma così se avete la speranza in cui se ne mangia talmente poca talmente poca che la seconda domenica del mese posso farmi una grigliata capita e fare una grande festa e papparmi costesine ma è lunga la strada è lunga la strada comunque la risposta è sì allora un paio di domande a cui direi che hai già risposto ma dall'oggi al domani siamo in grado di rinunciare alle fonti fossili se siccome hai già detto che è una transizione pari pari è improponibile ma comunque e l'altra l'altra domanda è se la politica non riesce a trovare una soluzione cosa possiamo fare noi e anche qui hai risposto ma ti dico se è sensato pensare a un abbandono improvviso delle fonti fossili e sapete quando vi dicono che avete un cancro e vi dicono devi prendere questo chemioterapico non è che vi mettete in testa di pensare ma è sensato che io riesca a cominciare a prenderlo domani con tutti gli appuntamenti che ho e poi mi cascheranno i capelli eccetera no lo prendete di corsa questo è un pochino il livello metaforico a cui siamo l'abbandono delle fonti fossili deve passare ovviamente attraverso una salvaguardia feroce del benessere della gente chiaramente per cui è chiaro che non posso mandare sulla strada un esercito di operai che in questo momento lavorano usando fonti fossili devo fare in modo di riconvertire l'impianto devo fare in modo di riconvertire tutta la filiera e questo non lo stanno facendo non è questa la logica su cui stanno lavorando però è possibile però è possibile e quando ci saranno costretti lo faranno qui arrivo alla seconda domanda che è quella come lavorare chi lo deve fare è ovviamente la politica che ha i mezzi per farlo e in certi versi non pensate che i politici siano tutti dei cattivoni o tutti dei mafiosi c'è fior di gente in gamba e anche fior di gente seriamente in buona fede motivata solo che per farli lavorare con la velocità con la profondità che è necessaria e soprattutto per far sì che prendano delle decisioni impopolari non si va più in aereo bisogna che una massa di persone sufficientemente alta scenda in piazza perché è così che che sono che hanno funzionato le proteste che hanno portato dei cambiamenti epocali la fine dell'apartheid in Sudafrica l'abbandono dell'impero inglese del subcontinente indiano il voto alle donne sapete qual è l'ultimo paese a aver dato il voto alle donne non ve lo dico sarà una sorpresa quando lo cercherete Svizzera sì e caspita mi hai rovinato eravamo già adulti io e te sai Marco lo so lo so ha colpito quando l'ho saputo ha colpito anche me comunque tornando un attimo ai combustibili fossili porto un esempio che fa capire quello che dico meglio è un esempio che porto sempre chi mi ha già sentito parlare lo conosce già e mi perdonerà in Scozia allevano aragoste quando le hanno levate le tirano su le uccidono le cacciano su un camion le portano al porto e poi via nave la portano in Thailandia in Thailandia gli operai tailandesi le mettono in scatola chiudono le scatole le rimettono nella nave le riportano in Scozia dove trovate negli estilanti di Edimburgo qual è il senso di questa operazione è un senso economico evidentemente evidentemente chi commercializza le aragoste in Scozia gli conviene fargli fare 35 35 70 mila chilometri perché risparmia perché c'è la mano d'opera in Thailandia che non costa niente per mille motivi perché non può fare le scatolette a Edimburgo perché emetterebbe troppo a CO2 e quindi non glielo fanno fare capite ora da un punto di vista globale questo è uno spreco di risorse talmente enorme talmente enorme solo pensate la nafta e il lavoro delle persone che ha dovuto portare avanti e indietro 70 mila chilometri queste povere aragoste che è veramente insensato quindi quando si parla di transizione energetica e di abbandono delle fonte fossili uno pensa caspita non posso più fare la lavatrice perché non ho più l'elettricità che viene prodotta dal carbone no c'è molto da fare molto più facile da fare molto prima se io fossi non in precedenza del consiglio perché mi cacerebbero fuori dopo 8 secondi per le misure che prendo ma se avessi la possibilità di farlo io 26 marzo oggi a mezzanotte proibisco di vendere SUV e proibisco di usarli da domani avvio un approvedimento finanziario per cui chiunque abbia un SUV me lo ridà e lo sostituisco gratis con una panda poi vado dalle fabbriche e gli dico ok ragazzi chiudete le catene di montaggio che producono macchine al di sopra dei 1200 cc di cilindrata oggi non un progetto di transizione che prende 5 anni no oggi lo faccio oggi pago quello che c'è da pagare bene tra un mese vedo l'effetto sul clima vedo l'effetto sulla curva della CO2 ovviamente se lo fa tutto il mondo è chiaro questa è una cosa facile e un SUV è un oggetto inutile inutile è una tonnellata e mezzo di ferro e tecnologia che trasporta spessissimo una persona sola è inutile così come è inutile il gasolio che va speso per portare avanti indietro le cozze le aragoste dalla Scozia alla Thailandia e gli asparagi del Perù a qui in modo che nei nostri mercati possiamo trovare asparagi fuori stagione vengono dal Perù va bene va bene va bene si fa per dire allora potremmo continuare ancora per un bel po' ma direi mi verrebbe una considerazione quando hai detto in poco tempo gli USA quando sono entrati in guerra hanno riconvertito tutto il loro apparato industriale si può fare a me verrebbe anche da dire tutto sommato dopo dieci mesi abbiamo già un sacco di vaccini che funzionano benissimo si può fare anche qui di fronte all'emergenza siamo riusciti a trovare delle risorse straordinarie bravissimo Marco noi stiamo venendo inondati di soldi ok sono risorse che sono saltate fuori a causa di che cosa hai detto la parola corretta un'emergenza un'emergenza e in questo momento le Nazioni Unite il massimo organismo che rappresenta la società umana parla esattamente di che cosa emergenza quindi non bisognava creare un ministero della transizione ecologica che poi di fatto è un ministero della transizione a cui ho appiccicato il vocabolo l'aggettivo ecologica tanto farò sembrare un po' più verde si doveva parlare di un ministero dell'emergenza comunque la buona notizia con questo chiudo perché le due buone notizie sono che comunque i mezzi per lavorare in termini di mitigazione adattamento e rinnovamento sociale ci sono le soluzioni sono note non dobbiamo aspettare che arrivi una nuova tecnologia la fusione nucleare che ha detto Cingolani parole in libertà o altre cose del genere le soluzioni ci sono e sono note la seconda cosa è che per esempio penso a cinque anni fa adesso questo tipo di consapevolezza sta veramente crescendo ovunque sapete cioè a livello internazionale il fatto che insomma gli scienziati e le mamme cominciano a scendere in piazza si moltiplichino gli appelli che io sia qui a parlarvi voglio dire comunque è una cosa che dieci anni fa manco si immaginava potesse esserci Fridays for Future non ci sarebbe potuto essere dieci anni fa per cui sapete questo unito al fatto che la gente comincerà a vedere sempre più piogge torrenziali e neve a crotone smottamenti e frane in Liguria acqua alta a Venezia comincerà chiaramente a dire no ragazzi qui allora hanno ragione benissimo bene e aggiungerei l'importanza di una corretta informazione è quasi una banalità però esatto da come ci racconti se noi stiamo lavorando stiamo lavorando quindi dovete darci una mano ho visto recentemente un intervento di Stefano Mancuso bravo bravo bellissimo e diceva a me come tu vorresti vedere sui giornali alcuni titoli lui diceva io vorrei vedere a fianco alle temperature del giorno ogni giorno il livello di CO2 ma sì certo certo Francesco no no e comunque voglio dire a livello di stampa in realtà è che noi in Italia siamo messi particolarmente male perché all'estero ci sono diversi giornali a tiratura nazionale voglio dire che hanno una sensibilità per queste problematiche che è molto maggiore della nostra noi siamo costritti ad aspettare il Papa che muova la gente capite che muova le coscienze Dio lo benedica perché dice delle cose che dovrebbero essere state dette ben prima da ben altri personaggi e le ha tirate fuori lui va bene dai basta se no io continuo a parlare lo sai come sono Marco io continuerei a chiederti cose Francesco è stato un piacere è stato veramente molto piacevole molto interessante avverti con noi noi come associazione come circolo gallerei songs continueremo a darci da fare per informare il più correttamente possibile la nostra comunità e speriamo di averti a questo punto in presenza per un'altra bella conversazione molto volentieri molto volentieri così poi possiamo fermarci fino a notte fonda in cortile a tirar fuori tutt'ora ci viene in mente benissimo io ringrazio anche tutti i nostri affezionati ascoltatori che hanno avuto la pazienza di restare con noi e do l'appuntamento fra 15 giorni e continueremo a parlare di clima di emergenze ambientali affrontando il tema dell'emergenza foreste bello bellissimo con Anfodillo fate parlare con Anfodillo sì sì lui è veramente mi ha insegnato un sacco di cose quando l'ho conosciuto e penso che sia veramente una persona preziosissima benissimo questo ci comporta nelle nostre scelte grazie grazie